Salve ragazzi, questa è la seconda lezione di filosofia che facciamo da quando siamo in videoconferenza ed è una lezione che affronta un argomento nuovo e cioè un autore nuovo che si chiama David Hume di cui forse abbiamo già accennato qualcosa in classe. David Hume fa parte inglese, anche lui, fa parte del filone empirista e abbiamo già detto più volte che l'empirismo è quella dottrina filosofica che ritiene che la conoscenza deriva solo ed esclusivamente dalla esperienza. So in quanto vedo, in quanto esperisco, in quanto agisco nel mondo e non in quanto penso. David Hume, rispetto a John Locke, di cui abbiamo già analizzato le idee fondamentali approfondisce e radicalizza ancora il suo empirismo, tanto da essere considerato, ancora oggi, il più importante filosofo empirista di ogni tempo. Ora voi nel vostro libro, a partire dalla pagina 330, nel vostro testo, troverete alcune pagine che appunto descrivono il processo della conoscenza secondo Hume. La conoscenza, come per tutti gli empiristi, deriva esclusivamente da impressioni esterne, da ciò che ci arriva dall'esterno. Ricorderete che abbiamo parlato delle idee semplici e delle idee complesse in John Locke? Bene. In John Locke le idee semplici erano le impressioni che ci arrivano dall'esterno, ad esempio la luce che vediamo quando guardiamo qualcosa che emette, qualsiasi oggetto che emette luce. Le idee complesse erano quelle elaborate dalla mente umana ed erano quelle che rappresentano un grado di realtà minore perché l'unica vera fonte di conoscenza della realtà è solo ed esclusivamente il senso. Come vedete Hume parla di percezioni, come vedrete nel libro, parla di percezioni e di idee astratte. Bene, qui, fin qui non c'è granché di nuovo perché le percezioni corrispondono alle idee semplici, ossia sono ciò che percepiamo dall'esterno, ad esempio l'impressione di blu che ho, guardando qui ora questo pezzo di cielo che è vero dalla mia finestra, mentre le idee astratte sono quelle che ci formiamo nella nostra mente e che la nostra mente fabbrica con i pezzi di esperienze che ci arrivano da fuori. Io per esempio fabbrico l'idea astrata di cielo, con tutto ciò che quest'idea astrata comporta, a partire dalle idee semplici. Quello che Hume fa, in più rispetto a Locke, è ricostruire il modo in cui queste idee complesse o meglio queste idee astratte nascono, cioè come la nostra mente le fabbrica e perché. Va detto innanzitutto che la facoltà umana che fabbrica le idee astratte a partire da quelle concrete è l'immaginazione, cioè se io guardo lì non si vede molto bene si vede una macchia blu questo è tutto ciò che mi garantisce e che mi offre la percezione che è la conoscenza reale secondo gli empiristi. L'idea di cielo, l'idea di qualsiasi altra cosa che mi posso formare nella testa, come nasce? Nasce perché io sono capace oltre che di vedere anche di immaginare la mia mente ha una facoltà creativa e capace di fabbricare le cose, le idee e questa capacità di fabbricare le idee si chiama immaginazione o per dire le cose in un altro modo l'immaginazione è la facoltà che il cervello umano ha di elaborare impressioni per costruire e fabbricare idee astratte che, ripeto ancora una volta, sono frutto esclusivo della facoltà di pensare e non vengono direttamente dalla realtà. L'immaginazione agisce secondo tre criteri che sono tre formule con cui l'immaginazione stessa aggrega le idee semplici per formare quelle complesse. Si chiamano, e lo vedete qui a pagina 333, somiglianza, contiguità e causalità. Cosa vuol dire? Che data una qualsiasi percezione che io posso avere in questo momento, essa è una percezione semplice, non è altro che una macchia blu, questo è, il resto è tutta roba artificiale. Ma come faccio a costruire? Come e perché parto da questa semplicissima impressione per costruire idee artificiale? La mia immaginazione cosa fa? Attacca questa percezione ad altre in base ad alcuni criteri. Il criterio della somiglianza cosa vuol dire? Che attacca questa percezione di blu che ho adesso ad altre percezioni di blu che posso avere avuto in altre occasioni per costruire che cosa? L'idea del colore blu. L'idea del colore blu è un'idea astratta che la mia mente ha costruito, che non c'è nella realtà, tant'è vero che questo blu è diverso da quel blu della parete ed è ancora diverso da quel blu che c'è là fuori, che muta in continuazione, eppure la mia mente fabbrica l'idea del blu, perché prende le idee, le impressioni e le aggrega secondo questi criteri. Il criterio della somiglianza è aggregare le impressioni sulla base del fatto che si somigliano tra loro in qualche modo. È la mente che dice che si somigliano, non è la realtà, è la mente che dice che quel blu somiglia a questo blu ed è di conseguenza l'immaginazione tramite il principio della somiglianza che crea l'idea del blu. Dopo la somiglianza il secondo criterio con cui nascono le idee astrate è quello della contiguità nello spazio e nel tempo. Cosa vuol dire? Vedo questo pezzo di cielo ora. Contiguamente, cioè nello stesso momento del tempo, vedo anche altre cose, delle case, dei comignoli eccetera. Questo aggregare le impressioni ottenute nello stesso momento di tempo costituisce un paesaggio. Io se guardo lì non vedrò, dirò una macchia blu, non dirò che vedo una macchia blu, dirò che vedo un paesaggio, ma un paesaggio è un'idea astratta. Nella realtà non c'è un paesaggio, c'è una macchia blu, una macchia bianca, una macchia verde eccetera. Il fatto che io unisca tutte queste cose che non hanno nulla in realtà a che fare tra loro, ma la mia mente le unisce, le attacca, le congiunge, le congiunge perché le vede vicine, le vede vicine nello spazio e nel tempo, le ho viste contemporaneamente nello spazio e nel tempo. E di nuovo, secondo l'imperismo e secondo Hume, non è la realtà che mi propone un paesaggio, è la mia mente che fabbrica il paesaggio partendo da impressioni e attaccandole sulla base del fatto che sono vicine nello spazio e nel tempo. Spazio e tempo che sono due concetti molto importanti che poi saranno sviluppati dagli illuministi e lo vedremo. Oltre alla somiglianza e alla contiguità, il terzo principio che l'immaginazione utilizza per aggregare le idee è quello della causalità e questo è il più importante di tutti perché noi quando vediamo due fenomeni che solitamente si susseguono l'uno all'altro tendiamo a credere che il primo sia la causa del secondo. Se io accendo un accendino e subito dopo vedo che la sigaretta si accende, ovviamente la mia mente, senza che io possa farci nulla, non è una mia decisione, ne concluderà che l'accensione della fiamma è causa e l'accensione della sigaretta, il fumo della sigaretta è l'effetto. Cosa ho visto? Io ho visto una cosa prima e una cosa dopo. Il fatto che la cosa prima sia la causa e che la cosa dopo sia l'effetto è una costruzione della mia mente, ancora una volta. La nostra mente costruisce il principio di causa e effetto. Nella realtà ci sono solo successioni di eventi, nella nostra mente ci sono eventi che causano altri eventi e questo è di importanza fondamentale perché tutta la scienza si basa sul principio di causalità. Non avrebbe senso fare scienza se gli eventi fossero tutti staccati tra loro e non fossero collegati tra loro secondo una catena di causalità. Noi pensiamo che A causa B, B causa C e C causa D, che tutti gli eventi sono legati tra loro, non sono a caso. Dobbiamo pensare, non possiamo sapere nulla altrimenti. Bene, Hume ci sta dicendo che questo fondamentale principio, la causazione della causalità, è esclusivamente qualcosa di fabbricato dalla nostra mente. Questo si chiama scetticismo. In sostanza Hume è un filosofo scettico, il più importante scettico moderno, lo scetticismo è l'idea secondo la quale le conoscenze scientifiche non hanno una base reale e una base solida, ma sono esclusivamente costruite dalla nostra mente. Questo è un principio importante di David Hume che ha un grosso effetto anche dal punto di vista della filosofia morale, perché, come vedremo meglio nella prossima lezione, non solo le conoscenze delle cose si formano in base a ciò che fa la nostra mente, al principio di immaginazione della nostra mente, ma anche le idee morali vengono fabbricate dalla nostra mente e dalla mente degli altri insieme, secondo il principio dell'abitudine. Ma di questo ne parleremo nella prossima lezione in cui approfondiremo Hume e parleremo anche del moralismo inglese. Per ora basta così.